E' come? Aspetta che io lo filmo da qua e non lo so bene così malissimo. Dai, dai, dai. A quest'ora l'abbiamo senti tutti. Aspetta che mi metto in una posizione migliore. Ecco qua non ci vedo bene. Dai, da sopra e da sotto, dai. Massimo Morello, bastardo. Dai. Dai che poi mi firmi anche a me. Guardate. Ti aiuto? Guardate lì. Ra' allora, dai. Dai. Devo filmare? Sono riuscito. No, no, no.